Un saluto a tutti gli amici di GizChina.it, benvenuti al test di immersione del QBOT X11, smartphone dotato della certificazione waterproof IP68. Andremo ora a immergere il dispositivo all'interno di un lavandino riempito d'acqua per vedere come resiste in questo breve test di immersione all'acqua. Ecco che immergiamo il terminale che, facciamo vedere prima dell'immersione, presenta entrambi gli sportellini per microSD e SIM completamente chiusi, con i relativi ingressi che risultano essere scoperti come da progettazione del terminale. Dunque tutte le precauzioni sono state adoperate per questo test. Andiamo ora ad immergere il terminale. Lo lasciamo qualche secondo, diciamo così, in ammollo. Andiamo ora a riprendere il dispositivo che, come potete notare, risulta essere piuttosto... Andiamo ad asciugarlo per avere un dato veritiero. Vediamo che risulta essere piuttosto funzionante, senza problemi di alcun tipo. Facciamo anche una prova utilizzando Spotify. Come potete sentire, l'audio risulta essere un pochino ovattato. Quindi, dopo il test di immersione, il dispositivo risponde piuttosto bene al touch, senza impuntamenti, risultando abbastanza fluido, con però la cassa, lo singolo speaker inferiore, che risulta essere leggermente ovattato e soffocato nel suono. Anche altri dispositivi presentano questa, chiamiamola così, problematica e valuteremo in sede di recensione completa del terminale se si tratta di un danno permanente, se così possiamo definirlo, o semplicemente una situazione momentanea in attesa che il dispositivo si asciughi e quindi riacquisti la funzionalità di ascolto tramite lo speaker perfettamente funzionante. Per quanto concerne questo test da Luca è tutto, vi rimando alla recensione completa che troverete online nei prossimi giorni.